Tananai è uno degli ospiti di Sanremo e sta venendo cancellato da migliaia di persone che lo stanno accusando di grassofobia per un post che ha pubblicato su Instagram e addirittura qualcuno vorrebbe che gli venisse impedito di partecipare a Sanremo è una situazione davvero assurda ne avevo già parlato anche l'anno scorso ma Sanremo non è un programma che mi interessa perché la maggior parte della musica che portano non mi piace e soprattutto tutta la politica che ci buttano dentro forzatamente nelle ultime edizioni mi fa passare completamente la voglia di seguirlo ma devo essere sincero e ammettere che quest'anno un po' lo aspetto non tanto per il programma in sé ma perché sono certo che ci sarà qualche polemica qualche scandalo incredibilmente stupido e che sarà ottimo content per questo canale e per farci due risate su quanto certa gente non ce la fa proprio a collegare i due neuroni quello che non mi aspettavo però è che sarebbe scoppiato il primo scandalo riguardante Sanremo e un suo ospite quando Sanremo non è ancora cominciato questo penso che potrebbe essere un record e non è neanche uno scandalo qualunque ma delle gravissime accuse di grassofobia e in quanto massimo esperto ed esponente numero uno di questo argomento in Italia nonché CEO della grassofobia in questo video andremo a vedere cosa ha pubblicato questo cantante per aver fatto arrabbiare tutta questa gente i motivi di queste accuse e se hanno effettivamente un senso oppure come spesso succede no ci sentiamo però anche a ringraziarvi perché siamo arrivati a 190.000 iscritti che oltre ad essere un numero enorme ci fa anche capire quanto siamo vicini all'obiettivo dei 200.000 quindi se tu stai guardando questo video ma non sei ancora iscritto potrebbe essere il momento giusto per farlo e aiutarci a raggiungere questo obiettivo bene come vi dicevo il cantante che si trova al centro di questa polemica è Tananai e tutto è cominciato quando l'unici gennaio Amadeus ha annunciato che il cantante si esibirà durante il festival di Sanremo 2024 in piazza Colombo successivamente quindi il cantante ha deciso di annunciare la cosa anche nei suoi social e quindi ha pubblicato questa immagine su Instagram scrivendo in descrizione spero di rimettermi in forma per l'ospita da Sanremo ma Nagio di Amadeus mi stavo rilassando chiaramente per chi non sapesse chi sia questo ragazzo quell'immagine è modificata non ha davvero quella build in realtà ha un fisico molto più magro quindi quello che probabilmente voleva dire è fare una battuta facendo intendere che non si aspettava di venire invitato e quindi se ne stava bello tranquillo con le festività a mangiare quello che voleva e ora ha ricevuto questo invito e quindi deve tornare un attimo in forma che dire di questa battuta? è la più originale al mondo? non è mai stata fatta da nessuno prima d'ora? chiaramente no è una battuta esilerante per cui sbellicarsi dalle risate? nemmeno questo ma è una battuta offensiva che stia insultando qualcuno? decisamente no ma ovviamente non tutti la pensano così nonostante il post abbia superato i 120.000 like in circa due giorni quindi a tante gente è piaciuto se si aprono i commenti c'è l'inferno al punto che anche i giornali si sono messi a scrivere degli articoli su questo caso la foto sovrappeso ritoccata? devo tornare in forma a pensarremo? lo accusano di grassofobia pubblica una foto sovrappeso ritoccata? è polemica? gli utenti lo accusano di grassofobia? nel mirino dopo la foto in sovrappeso ritoccata? cantante accusato di grassofobia? è probabile che in questo momento vi starete chiedendo le ragioni di queste accuse per quale motivo questo post sarebbe così offensivo o addirittura grassofobico? beh la ragione la scopriamo addentrandoci nei commenti ne leggeremo anche qualcuno di quelli con più like per capire le critiche più condivise per esempio c'è questo che per pura casualità ha 104 risposte che strana casualità veramente e insomma ci dice questo fammi capire se fossi realmente diventato una persona grassa vuol dire che non potresti più fare musica scrivere belle canzoni e andare a Sanremo vuol dire che ti vergognaresti a farti vedere in tv che tra l'altro allarga vuol dire che non potresti più riempire gli stadi con i tuoi fan che cantano le canzoni a squarciacola interesting spoiler questo commento è bellissimo perché inizia con fammi capire e poi procede col dire una serie di cose che non ha mai detto nessuno e che ha immaginato solamente lei forse sarebbe stato meglio se l'avessero fatta capire veramente prima di commentare grazie poi per averci detto che anche da grazie si può essere cantanti c'è gente anche come Lizzo che non solo ha una carriera ma praticamente si parla di più e si elogia di più le sue gesta per la body positive che le sue canzoni ed essere paladine di quel movimento l'ha fatto un'enorme pubblicità lasciando poi stare ciò di cui è stata accusata di fare delle sue ballerine che quello è un altro discorso non sapevo ci fosse un divieto che impedisse alle persone grasse di salire sul palco di Sanremo cancella questo addirittura alla fine si permette di dargli gli ordini e di cancellare il post perché poverina si è offesa e quindi giustamente gli altri devono essere censurati io invece non sapevo che ci fosse un divieto di pubblicare dei post ironici su Instagram perché altrimenti qualche moralista se la prende un po' troppo altro commento anche questo fantastico ci dice questo mi ero fatto un'idea migliore di te evidentemente spagliata forse non lo sai ma le persone possono andare a Sanremo anche se sono grasse possono fare una vita come tutte anche se sono grasse e meritano rispetto come tutte non certo questo umorismo di bassa lega è offensivo mi spiace solo per i tuoi fans che per la maggior parte immagino siano giovani se fossi una ragazzina grassa e venissi ridicolizzata dal mio idolo stare malissimo ma evidentemente non hai la sensibilità per rendertene conto ragazzi provate per un attimo a immaginare il processo mentale del vedere un meme come questo di uno che ti dice che si è rilassato troppo e che deve tornare in forma è la cosa più normale che ti viene in mente di fare è scrivere un papiro come questo accusandolo di cose che non ha mai detto davvero questa gente è di una pesantezza inaudita e non intendo solo di chili anche se molti di quelli che se la sono presa sono in un bulk abbastanza aggressivo ma intendo proprio come ragionamenti immaginate uscire con persone così andate a vedere Sanremo di persona e si vi azzardate a cantare vi zittiscono perché no cantare è offensivo per i muti poverini vai prendete un panino e no non puoi farlo perché stai offendendo le persone del terzo mondo che non hanno da mangiare anzi no questa forse no questa regola non la seguono perché altrimenti non avremo un'epidemia di obesità e non ci sarebbero tutti questi gorlock che si lamentano della grassofobia ma insomma stai respirando e no e li stai offendendo i morti perché poverini devi pensare anche a loro come si sentono e direi che anche a loro se la vivono male in prima persona a vivere con tutte queste paranoie ma a parte qualche rare eccezione in molti casi non è neanche così perché spesso chi si mostra sui social come paradino della moralità e che bacchetta tutti gli altri nel privato sono delle persone orribili che fanno tutto il contrario di quello che predicano ci sono stati anche dei casi di celebrità che poi sono state smascherate ma lo fanno comunque perché li fa sentire meglio ai superiori tra l'altro ho premesso che per quanto questi estremisti del politicamente corretto possono strillare e piangere nei commenti ognuno può scherzare su quello che vuole questo è chiaro esiste la libertà di parola per fortuna ma in questo caso le critiche sono ancora più stupide perché questo cantante in passato è stato davvero grasso e ha vissuto effettivamente quella situazione e quindi sa cosa vuol dire infatti da un estratto di un'intervista con il corriere scopriamo che ha raccontato questo da ragazzino ero alto 1,50 m pesavo 82 kg mi chiamavano ciccione e mi spintonavano ho saltato qualche mese di scuola perché non volevo farmi vedere quindi quelli che lo criticano dicendo che non può fare battute su una situazione che non ha vissuto sono stupidi due volte perché prima cosa non è vero e possiamo scherzare su qualsiasi cosa anche se non ci riguarda in prima persona ma anche seguendo il loro ragionamento malato e prendendolo per vero sono comunque nel torto anche se a dirla tutta sappiamo che i paladini dell'accettazione del grasso quelli che erano grassi ma sono dimagriti sono esattamente le persone che odiano più di tutti perché gli fanno pesare il fatto che dandosi da fare si può migliorare la propria salute quindi forse sapere questa storia le farà arrabbiare ancora di più spoiler i corpi grassi non sono meme e non fanno ridere smettiamola di ridicolizzarli risposta a me fanno ridere altro commento e questo ve lo mostro perché ne ho letti moltissimi simili ed è un concetto che si sta diffondendo molto l'umorismo funziona quando non scherza sulle vite di persone marginalizzate altrimenti è discriminazione questo ragionamento se possiamo definirlo tale è qualcosa che vedo molto spesso nei contenuti dei fan del politicamente corretto che stanno importando dalla cultura voca americana e dato che loro credi non si basano sulla logica o su qualcosa di concreto ma solamente su dei dogmi dettati dal perbenismo dei loro guru preferiti e della loro moralità soggettiva è tutto puramente soggettivo perché la moralità appunto è una cosa personale tu puoi pensare che sia immorale scherzare sui grassi io pensare che non lo sia chi ha ragione, chi si offende per primo purtroppo non funziona così ma dato che questa gente vuole imporre la propria moralità e quello che pensano e mettere quindi il bavaglio a chi la pensa diversamente quello che fanno è letteralmente cambiare il significato delle parole per assecondare la loro moralità l'abbiamo visto anche in molti altri casi tipo la parola donna o uomo ma in questo caso è l'umorismo che ci viene detto che non è umorismo se si scherza su persone marginalizzate perché in quel caso è discriminazione questa è una stronzata colossale umorismo non vuol dire quello si può fare umorismo su qualsiasi cosa e su qualsiasi persona al massimo puoi dire che a te non piace ma ti posso anche dire che con tutto il rispetto non me ne frego né merito cazzo che poi anche sul discorso persone marginalizzate ci sarebbe da parlarne ormai tutti vogliono essere parte di una categoria oppressa e quindi si inventano etichette di tutti i tipi per esempio i grassi non sono nemmeno lontanamente oppressi nel nostro paese tra gli indignati nei commenti c'è anche la ex di Damiano Remaneskin io lei onestamente non la conosco non so quello che faccia nella sua vita e nei social perché appunto non la seguo ma è incredibile che tutte le volte anche mi è capitato di sentire la nominare e per delle polemiche di questo tipo ho visto anche che ho pubblicato delle storie sull'argomento ma sono un'infinità le righe in alto che mostrano quante storie mancano sono letteralmente dei puntini minuscoli c'è anche qualche storale in mezzo e alla fine che parla d'altro ma non so nemmeno come sia possibile parlare così tanto per un meme e due righe di testo ma quello che so è che non mi metterò a leggere tutta quella roba in ogni caso non penso che serva aggiungere altro perché altrimenti anche io mi ritrovo a parlare fin troppo di qualcosa che non ha molta importanza ma è sempre divertente leggere questi commenti assurdi e farsi due risate quindi adesso aspetto di leggere anche il tuo commento per sapere la tua di opinione e detto questo noi direi che ci becchiamo alla prossima ciao Grazie a tutti.